Il Ministero della Salute ha ottemperato all'ordine di esibizione disposto dal TAR Lazio in accoglimento del ricorso promosso da Confu Commercio e Imprese per l'Italia Sicilia, rendendo così disponibile e ricorrenti tutta la documentazione posta a fondamento dell'ordinanza del 4 novembre scorso emessa dal Ministro della Salute, che ha stabilito la collocazione della Sicilia nella zona cosiddetta arancione. Questo è quanto scritto nel comunicato stampa di Confu Commercio Ragusa e ancora Confu Commercio Provinciale Ragusa, riprendendo le preoccupazioni già manifestate da FIPE a livello nazionale, lancia un forte allarme per il settore dei pubblici esercizi, anche in ambito locale. Piero Giunte in questa intervista che stiamo per ascoltare ha discusso di questi temi con il Presidente regionale di Confu Commercio Sicilia Gianluca Manenti. Ascoltiamo. Allora Gianluca, iniziamo questa nostra chiacchierata radiofonica con l'affrontare e parlare delle preoccupazioni manifestate da FIPE e che Confu Commercio ha fatto sue, e cioè l'allarme che avete lanciato per il settore dei pubblici esercizi, anche in ambito locale. Gianluca, cos'è che vi preoccupa? Confu Commercio Ragusa lancia un forte allarme per il settore dei pubblici esercizi, anche in ambito locale. La ristorazione, pur potendo operare con l'asporto, riteniamo che sia in ginocchio per effetto della pandemia. La chiusura parziale sta provocando un dimezzamento dei fatturati delle aziende, con un risultato che mette a rischio decine e decine di posti di lavoro. L'impegno primario da parte di tutti deve essere quello di evitare la morte di gran parte delle imprese del settore, con le ripercussioni sulla tenuta dei livelli occupazionali e con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale, di perdita delle professionalità che sono state costruite in modo faticoso. Confu Commercio chiede che i ristori siano resi più inclusivi rispetto ai principi di zonizzazione territoriale e di individuazione dei beneficiari per codice Ateco, tenendo conto di quanto l'emergenza economica e sociale sia diventata anche in termini di cadute dei fatturati pervasiva e trasversale. Servono risposte determinate anche sul fronte delle moratorie fiscali, a partire dal calendario fiscale di quest'ultima parte dell'anno. Quanto all'estensione della moratoria creditizia fino a giugno 2021, bene, ma è fin d'ora chiaro che, anche in questo caso, sarà necessario fare di più. In più il ripristino dell'operatività degli indennizi per la cessione di attività commerciali. Ma la previsione di incremento nel 2022 dell'aliquota contributiva destinata al fondo di razionalizzazione della rete commerciale deve essere sicuramente rivista. Confu Commercio Sicilia ha ottenuto dal Ministero della Salute i dati posti a fondamento dell'ordinanza del 4 novembre, che ha decretato la zona arancione nell'isola. Alcuni dei valori indicati sono al di sotto delle foglie di allerta. Così si legge nel vostro comunicato stampa. E allora ti chiedo, Gianluca, cosa volete dire? Spieghiamolo. Il Ministero della Salute ha ottemperato all'ordine di esibizione che è stato disposto dal Tar del Nazio in accoglimento del ricorso che abbiamo promosso come Confu Commercio Sicilia in modo da rendere disponibile ai ricorrenti tutta la documentazione per quanto riguarda l'ordinanza del 4 novembre scorso che è stata messa dal Ministro della Salute, in cui la Sicilia è stata collocata nella zona cosiddetta arancione. Questo ha comportato, come ricordiamo, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, fra cui il bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie. Abbiamo chiesto i verbali, per quanto riguarda le sedute del 3 novembre, del Comitato Tecnico Scientifico, e anche i verbali del 4 novembre della cabina di regia che sono state richieste nell'ordinanza in cui abbiamo impugnato e che non erano stati fino a questo momento ressi pubblici. Il Ministero della Salute si è difeso nel riscontrare che l'ordinanza in questione si sarebbe dovuta limitare ad applicare gli indicatori sulla scorta dei dati forniti dalla regione, senza possibilità poi di svolgere alcuna valutazione discrezionale. Quello che ritorniamo da un primo sommario esame dei verbali che sono stati prodotti, si può confermare che alcuni dei dati che riguardano la regione siciliana si pongono, si collocano al di sotto delle soglie di allerta che sono stati determinati dal decreto del 30 aprile del 2020. Alla luce di questo, Commercio Sicilia, sebbene l'ordinanza che è stata impugnata abbia già cessato di produrre i propri effetti, dovrà insistere e sicuramente insisterà nell'azione promossa, come abbiamo ribadito ieri mattina in Camera di Consiglio del TAR del Lazio da parte degli Avvocati, chiedendo di fare luce fine in fondo sulla responsabilità del Ministero della Salute in ordine alle ingiuste, inique applicazioni dei dati e dei parametri epidemiologici ai conseguenti danni che sono stati arrecati al tessuto produttivo siciliano. Abbiamo formulato una riserva di proporre in separato giudizio una domanda risarcitoria, qualora ci fossero i presupposti nei confronti della Regione Sicilia e si accertasse qualsiasi tipo di responsabilità in capo a questo ente, in particolare per quanto riguarda la qualità e la tempestività dei dati trasmessi. Ieri il TAR del Lazio, il collegio, si è riservato di decidere sulla base degli atti circa l'istanza cautelare. Ovviamente l'istanza cautelare dovrebbe essere dichiarata ormai improcedibile, in quanto l'ordinanza impugnata non è più efficace e quindi si continuerà, riteniamo, nel merito per chiedere il risarcimento e quindi fare una domanda risarcitoria. Ringrazio Gianluca Mamenti, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.